Elwood, la sua patente è attualmente sospesa. Scenda dall'auto, per favore. Prima scambi la nostra Cadillac con un microfono. Poi mi dice un sacco di bugie sulla banda. E adesso mi fai ritornare dritto dritto in galera. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio. No, non ci prenderanno. No, non ci prenderanno. No, non ci prenderanno. Grazie a tutti.